Ciao ragazzi, siamo dal vivo, in teoria. Scrivetemi nei commenti se mi vedete, se mi sentite bene. E un saluto anche alle persone che guardano questo video registrato. Io vi ricordo sempre, se state guardando questo video il 9 aprile, probabilmente è in diretta. Scusate che mi sento da solo. Se invece non state guardando questo video il 9 aprile, probabilmente è registrato. Lo dico perché a volte c'è un po' di confusione. Quindi, ok, vedo che ci sono già tante persone. Ciao Claudio, ciao Faustino, ciao a tutti. Dunque, oggi abbiamo un ospite molto speciale. L'ospite di oggi è un ragazzo portoghese che io ho scoperto qualche settimana fa, che ha un canale per l'insegnamento del portoghese europeo e adesso... adesso comparirà sullo schermo. E come sapete io da qualche... non so se lo sapete in realtà, ma da... da un po' di tempo sto imparando il portoghese. Portoghese... principalmente brasiliano. Perché io ho tante persone brasiliane che mi seguono. Poi qualche settimana fa, o qualche mese fa, forse due mesetti fa, ho... mi sono imbattuto, ho incontrato casualmente il canale di questa persona, che parla portoghese europeo. E quindi ho iniziato a guardare i suoi video, ho detto, ma bravo, bravo questo ragazzo, molto bravo. Ed è interessante anche poter sentire il portoghese europeo che su YouTube è meno rappresentato, è un po' sottorappresentato. Poi, casualmente, siamo stati entrambi invitati a un video che forse avete visto sul canale di Ecolinguist, in cui entrambi, insieme ad altre persone, cerchiamo di capire la lingua si... Ciao, ciao! Davide, non ti sento perché sto avendo un problema qui con le buffie. E' un po' sottorappamento. un secondo ora si sente? no no, credo sia colpa mia, Leo ok, Leo pensa che sia colpa sua ma in realtà è colpa mia perché questo microfono che ha il cavo non funzionante Leo, mi senti? ok, adesso provo a scrivergli eccomi Leo, era tutta colpa mia, non erano le tue cuffie ah, ok era colpa del mio microfono che, come sai, continua ad avere dei problemi come quella volta era colpa mia, le tue cuffie andavano bene se succede di nuovo questa cosa, che ci sono rumori strani fatemi un segno ah, anche loro lo stavano sentendo quindi sì, 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 erano tutti, tutti stavano scrivendo che esiste un rumore tipo camion sì, sì un rumore infernale quindi chiedo scusa se vi ho distrutto le orecchie comunque ci siamo ci siamo, siamo pronti allora, quindi questo mi ha un po' rovinato l'introduzione perché non ti ho sentito, non so cosa che hai detto dopo ah, tutta l'introduzione non si è sentita? no, io ho sentito fino a tipo il minuto due di questa live hai parlato del canale Ecolinguist che ci siamo conosciuti e poi da lì ho perso quello che hai detto hai perso il resto, ok non ho detto molto altro, credo comunque, sì, abbiamo fatto questo video insieme sul canale di Ecolinguist in cui insieme a altre persone dovevamo capire la lingua siciliana e quindi, insomma, ho conosciuto, ho conosciuto così Leo e mi ha molto sorpreso per il suo italiano e credo che sorprenderà anche voi adesso e quindi volevo un po' scoprire insieme a voi io conosco un po' la sua storia ma vorrei scoprirla e per ripercorrerla insieme a voi in diretta e quindi, insomma, di dove sei, Leo? cosa fai nella vita, raccontaci un po' di cose su di te allora, io sono di Lisbona è nato e cresciuto a Lisbona e ormai quello che faccio nella vita è più o meno lo stesso di te che è fare creazione di contenuti quindi fare un po' YouTube, fare podcast che è una cosa che già avevo questo, diciamo, questo sogno di poter fare questo già da qualche anno ma non avevo mai avuto il coraggio di cominciare di mettermi, cioè di mettere la mia faccia così su YouTube per tutto il mondo, tra virgolette fa un po' paura all'inizio esatto, e poi questa situazione già dell'ultimo anno del covid mi ha un po' spinto a cercare altre cose da fare altri modi, un po' di uno, guadagnarmi la vita due, di anche avevo tempo libero perché ho perso il mio lavoro tra virgolette, poi ti spiego e quindi questo è quello che mi ha motivato a cominciare il canale perché ho perso il mio lavoro? perché io cioè questa è la mia storia un po' strana magari comincio dall'inizio io ho studiato medicina ok che non c'entra niente con con quello che faccio adesso e ho studiato medicina mi sono laureato ho finito la laurea ed è stata durante questa laurea di medicina che ho vissuto in Italia a Roma però dopo ho capito che anche durante la laurea ho capito che non volevo fare non era questa la vita che volevo avere la vita da medico che è una vita molto dura e ci vuole molto sacrificio personale che io non mi sento di cioè non sei disposto non sono disposto a fare quei sacrifici esatto non è facile richiede quella vita esatto e quindi soprattutto poi in un periodo come questo forse richiede anche questo già da prima questo già da prima già da molto sì anche già nel 2016 avevo questi dubbi e e mi sono sempre interessato molto alle lingue così come te e so che sei interessato a lingue straniere all'apprendimento di lingue perché ne abbiamo parlato e perché anche dai tuoi video si capisce si capiva guardando i tuoi video e sentendo il tuo podcast parli di etimologia parli molto si vede che sei molto interessato in lingue anch'io lo sono e e quindi ehm ho sempre un po' avuto questo sogno di lavorare con le lingue e infatti una delle prime persone che ho scoperto che faceva questo è una persona che tu hai già avuto sul podcast sul canale che è Luca Lampariello e l'ho scoperto più o meno quando ho cominciato ad imparare l'italiano nel 2014 e ho sempre un po' avuto questo sogno quindi dopo aver lasciato medicina nel 2018 ho cominciato a lavorare come traduttore online perché per essere traduttore ci vuole anche un po' di conoscenza specifica di un argomento io ho la fortuna di avere conoscenza scientifica di medicina quindi posso essere traduttore in quella in quell'area specifica in quell'ambito della traduzione medica esatto e lo faccio ancora cioè oltre a fare fare youtube fare tutto questo sono traduttore freelancer e poi dopo ho anche fatto altre cose e mi sono imbattuto nel turismo e ho cominciato a lavorare come guida turistica già da dal 2019 e e questo era diventata la mia attività principale perché uno mi diverto un sacco due il turismo è abbastanza è molto come si dice qui mi devi aiutare cioè stavo avendo molto successo florido sviluppato andava molto bene molto sviluppato grazie andava benissimo ma facevi facevi la guida che porta le persone in giro per la città a fare quei free tours esattamente sì 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 ok no perché ho visto un video ho visto un video tuo che hai fatto sul tuo canale qui con eating europe una delle aziende con cui lavoravo qui a Lisbona sì 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 e anche anch'io anch'io quando visito città vado sempre a fare questi tour gratuiti dove alla fine devi pagare una mancia immagino che anche tu esatto quella fosse la tua fonte di guadagno esatto e questo guarda noi portoghesi siamo molto tirchi devo dirlo ok spieghiamo cosa significa questa parola come vedete come vedete Leo parla davvero un ottimo italiano qualcuno l'ha già scritto quindi quindi spiegherai delle parole farai il mio lavoro al posto mio va bene va benissimo quindi tirchio cosa vuol dire che i portoghesi sono tirchio esatto tirchio che in portoghese guarda il problema di ora non mi viene aspetto un attimo in portoghese sei sicuro che il tuo canale non sia per insegnare l'italiano non il portoghese non so se a te capita non so se a te capita però a volte quando stai molto diciamo stai parlando un'altra lingua che non è la tua e già ci stai già da qualche minuto e stai pensando in quella lingua poi poi non ti vengono le parole esatto non ti vengono le parole anche nella tua lingua però tirchio si dice c'è un'espressione che si chiama che è unghie di fame unghie di fame ah ok c'è un'altra parola che adesso non mi viene in mente però poi dopo ti dico però questo vuol dire nei commenti leggo Pão Duro questo sarà sicuramente brasiliano mai sentito ok però tirchio vuol dire una persona che ha molta difficoltà in spendere dei soldi non perché non li abbia ma perché non li vuole per niente spendere non li vuole tirar fuori non vuole cacciare fuori i soldi insomma suvina ah qualcuno ha scritto suvina esattamente ok João Pedro da Silvair ha scritto suvina che vedo già che questa diretta sarà monopolizzata da le persone che scrivono in portoghese e va bene sono contento perché lo sto imparando anche un altro ha scritto avvaro noi diciamo avverento ed era questa è la parola che cercavo avverento avverento non lo trovo in spagnol taccagno sì è vero anche in italiano diciamo taccagno è un sinonimo quindi magari magari lo scrivo tirchio oppure taccagno sicuramente ci sono anche altre parole che non mi vengono se c'è qualche italiano che mi sta seguendo che ci sta guardando oppure qualcuno che sa l'italiano meglio di me e sa altre parole le può scrivere comunque insomma quindi secondo te i portoghesi sono tirchi secondo me sì e secondo anche gli stessi portoghesi e quindi non ti pagavano no questo per dirti che anche io facevo questi facevo questi questi tour da turista diciamo quando viaggiavo e quando ero studente universitario e non avevo tanti soldi ma dopo farlo come guida turistica ho capito che devi pagare cioè ho capito l'altro lato diciamo che però comunque è sempre una bella cosa perché questi tour alla fine paghi se vuoi nessuno ti obbliga e quindi alla fine se la guida è brava allora i soldi sono buoni se sei una cattiva cioè se non fai bene il tuo lavoro non ti pagano bene quindi quindi questo permette di garantire la qualità del tour ai turisti sì perché le guide che non sono brave non durano molto in questo fanno la fame fanno la fame esatto esatto però poi da marzo scorso marzo del 2020 questa è un po' finita la situazione perché covid e quindi avevo qualche avevo dei risparmi e quindi prima ho deciso di di dedicarmi a studiare il francese che è una e qui entriamo un po' adesso finalmente entriamo cominciamo a parlare di lingue il francese è una lingua che ho cominciato ad imparare prima dell'italiano quando a scuola perché qui in Portogallo abbiamo l'inglese come principale lingua straniera perché è quella più utile più importante e poi il francese anche certe scuole hanno o francese o spagnolo la mia aveva solo il francese e quindi ho fatto tre anni di francese a scuola che non è tanto cioè tre anni due ore alla settimana impari il basico però adesso ora che parlo anche l'italiano sentivo che il francese se mi ci metto tipo se mi concentro e mi ci metto per qualche mese arrivo ad un sarò capace di arrivare ad un certo livello alto perché con l'italiano sono molto simili anche la grammatica basta solo lavorarci e quindi ho cominciato con il francese come ti ho detto prima cioè prima di questa live quando abbiamo parlato non so se è stato in questo periodo che ho anche scoperto il tuo canale o se già lo conoscevo di prima perché comunque anche se parlo l'italiano ci vuole mantenere le lingue le lingue non si imparano e basta dobbiamo mantenerle quindi anche se mi sono cominciato a concentrare più sul francese l'italiano lo volevo mantenere è stato un po' grazie ad un canale che ho trovato che anche tu conosci Inner French sì e anche un po' il tuo canale e anche io consiglio molto consiglio a chiunque chiunque impara il francese e grazie scusa l'altro ci stanno anche consigli stanno arrivando alcuni commenti su altri modi di dire Taccanio Taccanio avaro effettivamente è la parola più neutra avaro persona avara esatto spilorcio è un'altra parola invece più colloquiale come anche tirchio spilorcio sono tutte parole che hanno una connotazione negativa quindi tanti modi di dire questa cosa quindi ok scusa l'interruzione quindi parlavi del francese di Inner French Inner French e dopo aver scoperto questo canale che è un po' come il tuo e adesso anche il mio sono canali che parliamo di cose che ci interessano in un in maniera calma lenta per persone già con un certo livello almeno io non faccio il mio canale per persone per tipo beginners assoluti principianti principianti ma per chi sa già qualcosa e l'idea è esporre 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 sì esatto le persone alla lingua e quindi siete stati soprattutto voi due i vostri canali tu e Ugo che mi avete un po' spinto ispirato a cominciare il mio canale e adesso eccoci eccomi che parlo con una persona che seguivo già da molto tempo sono molto contento sono molto orgoglioso di questa cosa cioè mi fa non so come mi fa molto piacere perché a me sembra che il mio progetto sia ancora nuovo cioè sia la cosa nuova che faccio nella vita quindi pensare che ci sia qualcuno che ha potuto essere motivato a fare una cosa simile mi riempie d'orgoglio sono contento bene quindi ok poi ha imparato il francese e prima di continuare Emilio Garcia mi ha già chiesto due volte di dire qualcosa in francese quindi devi farlo devi farlo allora on parla un po' di francese il francese non posso parlare come parlo l'italiano ma comunque io credo che ho un livello un po' ma non è la stessa l'italiano è molto più facile per me e finiamo qui bene quindi non dice stupida non dice non millanta cose false dice cosa? no dico millantare cose che non sei una persona che millanta di sapere millantare vuol dire dire cose che fa dire cose false insomma attribuirti meriti che non hai quindi cerco di non farlo no ecco bravo bravo una buona cosa da fare nella vita essere onesti esatto bene quindi quindi prosegui pure col racconto quindi stavo parlando di quindi medicina francese medicina turismo torniamo al tuo periodo in italia magari esatto questo poi torniamo tra un attimo ok cioè riguardo alla mia storia non c'è molto più a dire c'ho questo canale tu hai aperto questo progetto sì se vuoi dire due parole quindi sul tuo canale esatto allora c'ho il canale da da luglio 2020 che è quando ho pubblicato il mio primo video c'è all'inizio ovviamente non avevo nessuno che mi sentisse però forse perché prima di cominciare avevo già sviluppato un po' tra virgolette il mio cervello di entrepreneur non so come dire questa parola in italiano imprenditore grazie imprenditore e la conosciamo ma non imprenditore in portoghese imprenditore con due impre e due de door imprenditore bene facciamo anche una lezione di portoghese così ti scrivo e poi tu vai a vedere la gente imprenditore ok e quindi anche dico dai dai scrivi scrivi la metto la metto anche in in portoghese adesso esatto ok facciamo una doppia lezione imparate due lingue non solo una adesso esatto e quindi avevo già anche prima di cominciare pensato a certe strategie per diciamo far crescere il mio canale il più in fretta possibile e quindi grazie a facebook grazie ai gruppi di facebook di gente tipo italiani a lisbona italiani in portogallo francesi sfagnoli latini americani inglesi cioè expats nel portogallo ho fatto qualche pubblicazione che mi ha aiutato a diciamo come si dice spargere la parola diffondere diffondere il verbo di portuguese with leo esatto e farti un nome esatto e questo mi ha aiutato molto e mi ha permesso di nell'arco di pochi mesi cominciare a a fare soprattutto questo come attività economica principale quindi quanto quanto tempo ci hai messo poco tempo o no quando hai iniziato esatto luglio il mio primo upload è stato il 24 luglio dell'anno scorso quindi sei stato veloce io ci ho messo tipo quattro anni per iniziare a guadagnare qualcosa tre anni tu però hai cominciato tu sei stato veloce ma tu hai cominciato come podcast e solo podcast no sì all'inizio sì diciamo che ho cominciato anche in maniera non così pianificata e seria tu hai iniziato pubblicando tutte le settimane proprio esatto avevo messo in testa fai un video alla settimana cioè fare gli uploads costanti e e questo cioè già alcune strategie che sapevo che mi permetterebbero di andare lontano su youtube pubblica cioè fare gli uploads in maniera costante e cercare di avere sì essere contenuti interessanti essere regolare e poi quest'idea di pubblicazioni su facebook veramente mi ha cioè mi ha portato molto avanti in poco tempo sì a proposito metto anche il tuo canale l'ho già messo prima ma lo rimetto in chat così se se qualcuno non non sa non non ha visto il tuo canale può può andarlo a vedere adesso ok bene bene quindi adesso ti dedichi anima e corpo al tuo progetto esatto insomma vuoi svilupparlo e hai quindi abbandonato la professione medica l'ho abbandonata la carriera medica e ti dedichi a questo bene bene esatto sono molto più felice così c'è un po' di rischio almeno per ora c'è un po' di rischio c'è un po' di però sono molto più libero molto più felice e poi ho sempre avuto anche il sogno di imparare tante lingue e immagino anche te ed è una cosa che voglio continuare a fare cioè finché non cioè fino alla fine della mia vita cioè finché vivi esatto finché voglio avere 80 anni e saper parlare tipo 12 lingue e continuare a studiarle perché è veramente interessante imparare le lingue e ti apre le porte a altre altra letteratura letteratura a poter parlare con altre persone con persone di altri paesi in un modo in cui loro ti trattano come se tu fossi uno di loro e non come se tu fossi uno straniero e questa è una delle cose più belle che che mi sono successe capitate con l'italiano per esempio e tornando all'italiano allora a propos vedo già che fai le transizioni tematiche tra i nostri argomenti quindi bravo 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 hai talento quindi 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 allora torniamo a come hai imparato l'italiano perché hai rapidamente e di passaggio hai accennato che sei stato in Italia hai vissuto in Italia quando studiavi medicina quindi raccontaci un po' come hai fatto come è andato come è svolto il tutto io per fortuna e questo è tipo un disclaimer prima di cominciare a parlare di come ho imparato l'italiano per fortuna ho una certa facilità con con l'apprendimento di lingue cioè ho ho l'orecchio abbastanza sviluppato e riesco ad imparare le lingue in fretta diciamo cioè ho sempre avuto facilità e questo aiuta e non solo aiuta ma anche mi motiva molto cioè quando senti che sei bravo a fare qualcosa questo ti dà la motivazione di continuare a fare questa cosa ed è tipo un un rafforzamento positivo non so se rafforzamento esiste o se mi sono inventata questa parola ma sì un circolo virtuoso esatto esatto cioè vedi i risultati e sei motivato a continuare ma anche se non hai tipo cioè anche se non senti di solito le persone fanno l'opposto che sentirsi smotivate perché credono sempre grazie dimotivate perché credono sempre sempre di non avere non essere fatti per imparare lingue sì e anche se possono avere ci possono essere persone che hanno un po' più di facilità tutti siamo fatti per imparare lingue perché tutti abbiamo imparato almeno una lingua nella nostra vita quindi e quindi ci vuole anche cercare per noi direi cercare il lato positivo anche quando sentiamo che è difficile cercare tipo cercare di vedere i nostri propri miglioramenti diciamo nella lingua anche se sentiamo che non ci sono ci sono sempre con l'italiano avevo certe facilità che per esempio non avevo con il tedesco con il tedesco che ho anche imparato e che per me è ancora una sfida e non lo parlo bene questo per dire che l'italiano non è stato tanto difficile per me perché parlo il portoghese sono madrelingua portoghese parlo anche lo spagnolo da piccolo cioè per vari motivi perché mia madre è nata in Argentina anche se è cresciuta qui e parliamo portoghese lei qualche canzone di non so come si dice in italiano quelle bedtime songs tipo le canzoni che canti ai tuoi si chiama così ninna nanna ninna nanna ok qualche ninna nanna come si dice in portoghese già che ci siamo canzoni di embalar aspetta ok quindi canzoni canzoni di cosa vuol dire embalar mettere a dormire tipo esatto embalar e tipo questo movimento così che fai ah ok tipo conciliare in sonno esatto che fai tipo col tuo bebè così ok canzoni canzoni singolare canzoni plurale di embalar ok adesso lo scrivo però tu vai pure avanti con la storia ci metto qualche secondo e quindi cioè da lì anche grazie ad essere circondati dalla Spagna qui in Portogallo e anche qualche viaggio che ho fatto nel Messico cioè ho sempre parlato lo spagnolo da piccolo e quindi sapendo lo spagnolo e il portoghese e anche avendo un po' di basi del francese per quello che ti ho detto che l'avevo imparato a scuola l'italiano non è stato così difficile cioè magari un russo o un tedesco o un olandese avrà più difficoltà in imparare l'italiano rispetto a me poi secondo me cioè questa è una cosa che sicuramente ti dicono tutti e sicuramente tutti nei commenti sono d'accordo con me l'italiano è una lingua bellissima quindi è una lingua che a noi strani noi non italiani ci dà molta voglia di imparare cioè veramente tu vuoi saper parlare italiano e e c'è in questo senso è anche una lingua che piace nel campo amoroso diciamo tipo se sai parlare italiano non essendo italiano è un punto in più è un certo vantaggio quindi quindi ecco perché hai imparato l'italiano hai confessato tutta la ragione così la stavo tipo nascondendo un po' però eh bene confesso e quindi tutte queste cose messe insieme hanno fatto cioè mi hanno hanno fatto hanno reso facile almeno la parte di mantenere la motivazione perché come sappiamo tutti noi che stiamo qui io te la gente che ci che ci guarda tutti noi stiamo imparando altre lingue e sappiamo che è molto difficile mantenere la motivazione spesso cioè non sempre ma ci sono sempre quei momenti in cui pensi ma perché sto facendo questo cioè io parlo già altre lingue spesso particolarmente se sai l'inglese che è la lingua che un po' basta per poter comunicare quasi in tutto il mondo perché sto facendo questo perché tanto lavoro per imparare una lingua sì a che cosa a che cosa mi serve a che cosa mi serve esatto anch'io ce l'ho avuto con più di una lingua immagino sì quindi questo mi ha motivato molto e poi quando ho deciso di andare cioè quindi già avevo una certa voglia un certo mi piaceva l'italiano e poi quando ho deciso di andare a Roma per l'Erasmus che per i non europei qui che ci che ci vedono l'Erasmus è il nome che diamo al programma di intercambio universitario in Europa di scambio universitario grazie grazie programma di scambio e quindi ho scelto Roma perché non ero mai stato in Italia e volevo proprio conoscere il paese perché è un paese bellissimo che ha di tutto c'è storia natura ha un po' ha tutto e poi voler imparare la lingua e così avevo la scusa perfetta per imparare l'italiano e quindi ho scelto Roma e ci sono andato e avrei potuto anche fare di meglio per imparare l'italiano però ho vissuto con dei portoghesi per i dieci mesi che ci sono stato quindi non è che ho fatto non è che ho fatto tutto quello che mi era possibile per imparare l'italiano però pur vivendo con dei portoghesi avevo lezioni in italiano e poi secondo me quando abiti nel paese nel paese della lingua che stai imparando è molto più facile perché sei circondato dalla lingua e quella è la cosa più difficile da fare quando sei da te nel tuo paese vuoi imparare un'altra lingua è trovare modo di circondarti dalla lingua che vuoi imparare circondarti di lingua forse direi circondarti o di o della lingua della lingua ok ok e quindi questo c'è dieci mesi in Italia anche se io non avessi fatto lo sforzo che ho fatto perché mi piace un sacco imparare le lingue avrei imparato qualcosa sicuramente perché vivere nel paese per osmosi insomma per osmosi pensi che avresti imparato soprattutto quando già hai le basi di altre lingue simili certo certo è anche vero però che cioè quello che dico sempre io è che ci deve essere una 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 voglia un desiderio di imparare cioè nel senso vivere in un posto è un grande facilitatore dell'apprendimento se se hai la voglia di apprendere allora è fantastico cioè nel senso io poi non ho in realtà non ho mai vissuto in un paese in cui imparavo la lingua allo stesso tempo di quel paese però sono sicuro che no in realtà l'ho fatto per alcuni brevi periodi in Russia ora che ci penso però sì è una cosa fantastica però devi volerlo fare perché ci sono persone a cui non interessa niente della lingua chi si parla sul posto e quelle persone non è che impareranno solo perché si trovano lì cioè ci sono expats come sicuramente ne conosci magari a Lisbona ce ne sono qua a Torino che parlano male molto male l'italiano nel mio caso dopo anni e anni che vivono qui perché non so non hanno interesse non hanno grande passione evidentemente secondo me sì questo è molto vero io come ho già detto parecchie volte oggi in questa live ho molta ho un amore per imparare lingue quindi mi piace molto quindi per me non è stato difficile trovare la motivazione però avevo tanti amici che imparavano solo il necessario per poter andare per poter fare la spesa nel supermercato per poter sopravvivere e poi non volevano imparare più niente e questo va anche bene non dobbiamo sentirci secondo me non dobbiamo sentirci obbligati ad imparare la lingua del posto dove viviamo se se accettiamo che poi ne soffriremo le conseguenze perché ci sono certe conseguenze cioè è un trade off tipo io preferisco abitare in un posto in cui parlo la lingua ma c'è gente che non lo fa e se sono tranquilli con il fatto che certe cose saranno più difficili per loro va bene anche così secondo me però io avevo molta motivazione e quindi anche prima di andare in Italia io sono andato in Italia mi sono trasferito ad ottobre 2014 per dieci mesi fino a dieci mesi fino a luglio 2015 e l'estate prima di andarci ho cominciato ad imparare l'italiano online su YouTube il tuo canale non esisteva ancora però se vuoi essere davvero italiano devi dire YouTube 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 con due B perché perché se pronunci YouTube bene non sei italiano devi dirlo all'italiano per sembrare italiano questo è una è una cosa sicuramente ti capita anche a te che quando stai parlando una lingua straniera che già parli bene però le parole straniere che non sono di quella lingua le pronunci con l'accento originale e quindi non sei veramente cioè non hai veramente imparato la lingua per esempio o ti beccano che sei straniero oppure oppure sembri magari un madrelingua ma pretenzioso no? perché io anche in italiano io non direi mai ah sì sto guardando un po' di YouTube no? esatto non direi non lo so adesso metto metto su un film su Netflix no non lo farei mai sarebbe ridicolo personalmente lo trovo ridicolo manco io in portoghese manco io in portoghese esatto però in una lingua straniera diciamo essendo comunque già una lingua straniera c'è una parola di una lingua terza magari ti viene da pronunciarla bene dato che sei capace esatto per esempio la marca non so cioè Levi's Levis magari si dice così anche qui noi diciamo Levis che è proprio Levis Levis è proprio con l'accento portoghese come si dice jeans in portoghese abbiamo noi abbiamo una parola abbiamo un'espressione portoghese calces de gang calces de gang pantaloni calces e poi de gang gang è il materiale in portoghese capito calces de gang impariamo più portoghese che italiano quindi noi diciamo jeans non siamo originali come al solito con queste parole in inglese infatti questa è una cosa che mi ha fatto non so è curioso dell'italiano che avete tante parole che vengono dall'inglese e tipo capisco le parole di 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 tecnologia tipo uno speaker il computer ok però una parola che quando l'ho imparata mi ha cioè mi ha colpito mi ha sorpreso molto è privacy com'è che non esiste il concetto di privacy già di prima com'è che avete preso la parola inglese per un concetto così antice così vecchio così sicuramente da prima della dell'influenza dell'inglese nel mondo interessante privacy a quanto pare è entrata nell'italiano nel 1950 non so cosa dicevamo prima non so non sono sicuro che ci fosse questo concetto di privacy di privacy perché penso sia una cosa piuttosto moderna che c'entra con la proprietà privata e non lo so comunque è interessante mi è sempre sorpreso questa la privacy ho un amico esatto qualcuno ha scritto riservatezza un amico di Roma che mi ha detto anche magari la parola giusta in italiano sarebbe riservatezza sì riservatezza però secondo me in tanti contesti in cui usiamo privacy la riservatezza non funzionerebbe cioè almeno per come per come si usa oggi privacy cioè fellini claudio la tutela della privacy la tutela della riservatezza non lo so non si usa così riservatezza potenzialmente potrebbe se la usi in quel modo poi prende quel significato però per esempio qui qualcuno ha scritto privacy che è la parola portoghese secondo me dovremmo dire priva una privacità no è strano in italiano privatezza privacità sarebbe sarebbe stata la parola che io avrei indovinato cercando di cioè non 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 conoscendola che io avrei provato la quale avrei provato esatto e questo cioè questo per per dare qualche consiglio per imparare lingue ma prima voglio solo dire quindi ho cominciato nell'estate ho cominciato ad imparare l'italiano nell'estate del 2014 e non esisteva ancora il tuo canale ma i due canali che mi hanno più aiutato sono due persone che hai anche avuto qui sul tuo canale well at home se sei in ascolto batti un colpo è lucrezia di learn italian with lucrezia che ormai è quella è la più grande tra virgolette su youtube no il canale di lucrezia è sulla luna esatto se ci senti lucrezia un saluto anche a lucrezia non penso che tu stia guardando ma nella remota possibilità esatto di saluto e ogni canale ha servito ha avuto il suo ruolo perché secondo me imparare cerchiamo sempre di imparare da madrelingua e questo ovviamente è giusto e quindi lucrezia il canale di lucrezia era lì per certe espressioni molto tipiche cioè imparare cose dal punto di vista di un italiano però il canale di tom che è uno straniero che ha imparato l'italiano da adulto e quindi secondo me questo è stato anche utile perché mi permetteva di vedere tipo una persona che ha fatto la stessa strada che io stavo per fare e che quindi magari conosceva meglio i problemi le difficoltà che una persona quando impara da straniero una lingua nuova le difficoltà che avremo nella predicazione con cui si scontrerà una persona straniera esatto e quindi entrambi i canali sono stati molto utili e non so se vogliamo parlare adesso di agora stai mi è uscito un po' il portoghese se vogliamo parlare di strategie un po' di quello che ho fatto per imparare l'italiano di consigli che io possa avere per una volevo solo chiederti quindi ok quindi tu hai iniziato hai iniziato prima di venire in Italia e poi in Italia avrai sicuramente trovato tante persone con cui parlare sul posto e più o meno più o meno più o meno perché te che hai anche vissuto all'estero saprai sicuramente che è molto più facile fare amicizia stabilire rapporti con altri stranieri che sono fuori sede e quindi cioè io non ho quasi spieghiamo cosa vuol dire magari fuori sede uno che è fuori dal suo del suo luogo dove è cresciuto dove è nato sì lo usiamo lo usiamo soprattutto soprattutto quando parliamo di studenti che studiano fuori dalla propria città natale ok dove sono nati studenti fuori sede anzi adesso scrivo anche studenti fuori sede quindi sì tu eri uno studente molto fuori sede perché eri in un paese diverso addirittura esatto e poi anche la mia prima il mio primo scontro con il romano non l'italiano con il romano è stato che io ero io sono andato in Italia con due amici e quindi ecco perché vivevo con dei portoghesi perché sono andato con loro e abbiamo deciso di abitare insieme e io io ero l'unico che parlava un po' di italiano a quel punto e quindi ero io il responsabile per chiamare i i i i i i i padroni di casa e cercare un appartamento per vivere e quindi parlare al telefono che già non si sente benissimo con dei romani con un italiano livello bassissimo che avevo in quei tempi è stato difficile sì 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 però ce l'hai fatto queste cose queste cose ti segnano però anch'io mi ricordo mi ricordo una volta quando ero in in Russia a Mosca con un gruppo del mio gruppo universitario insomma e la mia la mia valigia fu persa all'aeroporto ui all'arrivare sì all'arrivo all'arrivo a Mosca la mia valigia fu persa si perse e quindi non fu bello dover dover spiegare che cos'era successo spiegare com'era fatta la mia valigia in russo perché poi all'aeroporto a Mosca nessuno parla inglese e poi i giorni successivi dover parlare al telefono per dire sì quindi com'è la valigia l'avete trovata o no arriverà quando arriverà ok potete consegnarla da questo giorno a quest'ora a fare tutte queste trattative al telefono con un russo che non era granché non è stato bello però sono cose che poi puoi raccontare ai tuoi nipoti esperienze che ti segnano questo questo sarà stato ancora più difficile perché il russo almeno l'italiano con il portoghese con lo spagnolo che parlo che parlo anche lo spagnolo non è non è così diverso ma immagino imparare cioè dover fare questi tutto questo in russo da italiano non sarà stato non è bello non è bello comunque non so cos'è che stavamo dicendo quindi stavi dicendo che dovevi fare insomma dovevi occuparti delle comunicazioni con i proprietari di casa perché eri l'unico che sapeva un po' di italiano sì sì e anche quello che hai detto di per imparare una lingua aiuta essere nel paese della lingua però ci vuole cioè dobbiamo avere anche noi stessi la la voglia la motivazione io ero anche l'unico almeno quello con più motivazione con più voglia di imparare l'italiano nel mio gruppo di amici e quindi era ero quello più predisposto cioè quello che voleva più avere le conversazioni in italiano e parlare e cercare di parlare ed è anche vero che quando fai errori in situazioni in contesti sociali non te li dimentichi mai sì e questo questo sono delle figure di merda così epiche che rimarranno con te per sempre esatto esattamente io ho una storietta non cioè qua la figura di merda non è stata fatta in italiano ma in spagnolo però grazie all'italiano perché te parli lo spagnolo e c'è anche qualche persona che parla lo spagnolo qui nei commenti la parola italiana per mio per in portoghese è il pasto aspetta adesso metto la figura di merda di di Leo lo metto anche che scorre sotto così esatto così ci puoi raccontare ecco vai allora io in questo periodo eravamo nel 2017 io ero in Germania ho fatto tre mesi in Germania anche di Erasmus però uscivo soprattutto con con dei latini con ispanoparlanti espanofoni direi espanofoni e e quindi parlavo soprattutto lo spagnolo che già lo parlavo da prima e che sempre l'ho parlato però in italiano c'è una parola che è il pasto che è quando mangi è il momento della i momenti della giornata in cui ti sedi a mangiare mentre in spagnolo il pasto è l'erba dove le mucche mangiano ok ok mentre il pasto italiano il pascolo quindi in italiano sarebbe esatto esatto mentre il pascolo il pasto italiano si dice la comida in spagnolo ok e quindi io volevo parlare ok quindi pasto in italiano sarebbe in spagnolo comida semplicemente esatto mentre in italiano pascolo sarebbe pasto in spagnolo questo non sapevo si dicesse così in spagnolo quindi io non io non non l'ho mai dimenticato perché cioè io volevo dire qualcosa sul pasto italiano cioè non so non mi ricordo più però parlare di una comida di un pasto e mi è uscita in spagnolo la parola pasto e tutti si girano e mi guardano così e tipo e cominciano a ridere perché avevo fatto una cazzata avevo detto ti mangi l'erba delle mucche esatto e quindi questa è una storietta per uno per far vedere magari alle persone più timide che per imparare dobbiamo parlare dobbiamo fare degli errori e anche se mi hanno preso in giro cioè non è che ho perso gli amici magari ti chiamano non so mangia erba non so qualcosa però questo vuol dire che queste situazioni uno poi dopo mesi anni dopo ti ridi e sono ricordi belli tra virgolette e due così impari non dimentichi mai certe parole quando fai queste figure esatto esatto poi sono storie divertenti da raccontare esatto ok ok quindi tornando al tuo periodo in Italia volevi aggiungere qualcos'altro quindi hai detto che hai fatto un po' di fatica all'inizio a trovare amici italiani anche trovare casa va bene sì poi studiandomi cioè questo non è tanto fare fatica ma io penso quando tu sei fuori quando abiti in un altro paese la gente più predisposta a fare nuovi amici nuove amicizie sono sempre quelli che non sono del posto perché se sei di una città tu hai la tua famiglia hai i tuoi amici già di prima e quindi hai molto meno tempo libero mentre uno studente Erasmus che sta lì per un anno che ha molto meno responsabilità perché alla fine sta lì per per la vita non per le per le lezioni cioè quelle un po' sono sono opzionali le lezioni esatto esatto e spero cioè mio padre spero non mi stia sentendo però l'ho visto un po' l'ho vissuto un po' così quindi le persone che sono più aperte a questo a conoscere gente nuova sono anche le altre persone che sono anche non sono anche del posto e quindi alla fine gli amici erano quasi tutti non italiani e poi anche gli italiani che conoscevo erano di medicina che per la fine è una è una laurea è uno studio molto impegnativo e quindi già erano già erano italiani che magari avevano la loro vita già da prima con altri italiani cioè altri amici italiani e poi gente di medicina che magari l'ottanta per cento della giornata sta studiando quindi non ho conosciuto tanti italiani ne ho conosciuti molti di più poi a Lisbona dopo il mio scambio perché sono tornato con questa voglia di continuare a vivere una vita da studente in Erasmus e poi sapendo parlare l'italiano volevo continuare a parlare l'italiano e a conoscere italiani quindi l'ho l'ho migliorato ancora di più qui a Lisbona negli anni dopo il mio scambio capito e poi ho anche fatto ho anche fatto l'esame di C2 che è stato molto difficile volevo fare il C1 ma un mio amico portoghese uno di quelli che hanno fatto che avevano fatto l'Erasmus con me mi ha un po' sfidato a fare il C2 e io ok vabbè faccio il C2 ho preso un C che è tipo il voto più basso per per passare per superare l'esame però alla fine conta comunque sì esatto secondo me hanno fatto bene secondo me cioè per fare il C1 fai il C2 esatto ti sforzi un po' di più anche se è molto diverso perché poi entrano certi c'è certe cose dell'italiano come il passato remoto e c'è certi usi dell'italiano che io non li avevo mai avuti non avevo mai non ero mai dovuto visto da nessuna parte esatto non avevo mai dovuto usare questi questa grammatica e questi tempi verbali e queste parole però questo per dirti che metterti questi obiettivi alti ti spinge anche quello a ad ammigliorare a fare uno sforzo ancora più grande eh questo è il francese che adesso sto imparando e si mi mescola un po' ammigliore ammigliore ad andare avanti a fare forse più di quello che avresti fatto se non ti se tu non ti fossi posto questi obiettivi difficili e quindi è stato importante per me direi fare questo C2 non per non per il diploma non per l'esame in sé però per dove mi ha portato con l'italiano sì certo certo io consiglio consiglio sempre gli esami se c'è gente magari all'ascolto che che vuole una motivazione in più per l'italiano secondo me fare un esame è una buona motivazione ti spinge a fare cose che magari non facevi prima a studiare aspetti della grammatica a cui prima non ti interessavi quindi è una buona cosa e ora che hai il C2 perché anch'io ho ho preso il C2 in russo anch'io forse con un voto fantastico ma le persone non devono saperlo esatto però una volta che hai il C2 cosa fai? cioè ti sembra di non poter fare più niente in realtà puoi fare tantissime cose perché la lingua non finisce mai però come fai a trovare obiettivi per proseguire e continuare? esatto questa è una bella domanda perché una cosa che dico che cerco di fare con i miei studenti di portoghese e che cerco di fare anch'io è fare gli esami questi tipo B1 B2 C1 C2 anche se non faccio l'esame vero scaricarli da internet e farli per me per avere questo benchmark diciamo sapere qual è il mio livello dopo il C2 cosa fai? potrei rifarlo volendo per prendere un A però vabbè non è neanche così divertente fare un esame C2 però secondo me poi a questo punto devi devi avere la lingua cioè devi cercare modo di che la che la lingua sia presente nella tua vita il più possibile e cominciare e devi un po' avere una non so se atteggiamento è la parola giusta ma una una postura di tipo sono madrelingua perché perché con il C2 secondo me ti vedi un po' come sono una persona straniera che ha imparato la lingua e quindi sono arrivato lontano ok ci sta no da qui se vuoi continuare migliorare e pensare sono madrelingua quindi ho tanti buchi nel mio italiano che gli devo migliorare ok questa è una cosa che cerco di capito quindi tu al posto di considerarti uno straniero che ha raggiunto il massimo livello certificabile certificato per uno straniero si considera un madrelingua scarso esatto cioè ovviamente non sono madrelingua e faccio errori e ho proprio un accento però questo mi motiva a cercare di più cioè a cercare di uno neutralizzare tra virgolette il mio accento il più possibile che io sono molto perfezionista cerco di farlo magari questo anche quando sono con italiani o in Italia il mio accento migliora un po' poi quando quando sto molto tempo senza parlare la lingua peggiora anche un po' va bene però sì avere questa mentalità di sono o livello madrelingua di questa lingua e quindi non posso lasciarla andare sotto una una certa soglia diciamo che non è facile però cioè senza tipo senza tipo come dire cioè senza essere troppo duro con te stesso cioè ti devi dare anche un po' di tipo ok di tipo pat on the back tipo ok vabbè anche se una pacca sulla spalda dare a Cesare quel di Cesare e ogni tanto ogni tanto farsi i complimenti da soli è una buona cosa riconoscere che uno ha fatto tanta strada esatto esatto però per me almeno questo lo faccio io se per se sei arrivato al livello che non c'è più non ci sono più esami che ti possano dire ti manca ancora questo qui o devi ancora fare questo cioè sei arrivato a quel livello in cui il livello più alto per uno straniero che impara una lingua nuova allora devi secondo me con me funziona mentalità di sono madrelingua e quindi perché cazzo non capisco ancora questo film se sono madrelingua dovrei capirlo quindi fare il lavoro per arrivare lì perché non ho capito tutte le parole di questo romanzo se sono madrelingua dovrei capirle poi ovviamente non devi essere così puntiglioso ma almeno questo ti fa voler andare avanti invece di bloccarti in quel livello quindi avere una sorta di come dire cioè cercare le cose che non funzionano nel nel proprio nella propria conoscenza le proprie lacune esatto esatto capito questo è possiamo dire che sta funzionando ha funzionato e sta funzionando nel tuo caso spero di sì nel tuo caso ragazzi se c'è qualche domanda non stiamo non stiamo come dire non io cioè io leggo la chat però non volevo interrompere il racconto di Leo quindi se avete delle domande specifiche scriveteci scriveteci e penso che Leo sarà felice di rispondervi o anche io qualcuno qualcuno ha scritto Sylvain Sylvain Rodi immagino sia francese forse no sì però scrivere bene non è parlare bene allora fare un esame da solo questo cioè nella lingua ci sono quattro più o meno competenze no? che è capire la lingua parlata leggere capire la lingua scritta parlare e scrivere ovviamente ci sono limiti cioè non si può non possiamo avere un madrelingua qui con noi tutti i giorni che ci insegna e con cui parliamo però quindi secondo me la cosa migliore che possiamo fare per capire il nostro livello per capire dove siamo cosa ci manca è questi esami sono molto utili se cercate Celi 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 il Celi 5 e quello per C2 che ho fatto io però gli esami Celi C-E-L-I sono gli esami di italiano li scaricate su internet dall'internet e fate gli esami e poi andate a vedere le correzioni e capite cosa vi manca cosa non capite ovviamente non avendo nessuno con cui parlare con cui fare pratica diciamo la parte orale io parlo con me stesso cioè questo è un consiglio che do ai miei studenti di portoghese è ovviamente quando sono solo da solo a casa discrevo le azioni le cose che sto facendo o cerco o se sto pensando cerco di pensare ad alta voce nella lingua che voglio che voglio cioè allenarmi diciamo in quel in quel momento quindi dici prendo sto prendendo il bicchiere in mano sto prendendo il telefono guardo Instagram sul telefono cose di questo genere questo questo magari all'inizio discrevi queste azioni poi a partire da un certo punto non cioè non discrevi tipo ho preso il cellulare cioè comincia a pensare in italiano in questo caso tutti qua vogliono imparare l'italiano quindi usiamo l'italiano anche altre lingue insomma però diciamo è un consiglio universale esatto esatto e sì secondo me è il migliore che uno possa fare per da solo migliorare la parte parlata della lingua poi ovviamente è grazie all'internet se riusciamo a trovare qualcuno con cui parlare con cui fare tipo una volta al mese una sessione di tandem come come lo chiamano io con una una persona in francese lo sto facendo facciamo due volte al mese una ora un'ora in portoghese e poi la settimana dopo un'ora in francese in cui parliamo e ci correggiamo e scegliamo la lingua per per non uscire da quella lingua perché sia solo francese solo si parla e si sente il francese e poi settimana dopo solo portoghese secondo me oggi si riesce a trovare questo tipo di persone che vogliono fare scambi linguistici online e quindi per la parte parlata sì oggi direi che addirittura c'è una qual è l'espressione c'è l'imbarazzo della scelta perché ci sono milioni di app per fare cose del genere un tempo c'erano tre siti in croce sì in croce è un'espressione che usiamo in italiano per dire che sono per indicare una piccola quantità c'erano tre siti in croce cioè tre siti e basta o adesso non so magari anche di più però io mi ricordo questo conversation exchange che ho menzionato più di una volta no sicuramente lo conosci se anche tu come dire imparavi le lingue su internet intorno al 2009 2010 2011 12 quegli anni lì quando ho iniziato io oggi ci sono invece un sacco di app un sacco di servizi per trovare persone con cui scambiare fare questi organizzare scambi lingue quindi diventa cioè secondo me la difficoltà è non so scegliere una di queste applicazioni scegliere una persona e organizzare qualcosa investendo le proprie energie e il proprio tempo perché poi per organizzare questi scambi e per far sì che siano duraturi ci vuole dell'impegno e dell'organizzazione secondo me secondo me se ci impegniamo a scegliere la persona giusta all'inizio anche se perdiamo un po' più di tempo poi è più motivatore non so se esiste questa parola più motivante motivante grazie cioè l'avere una persona con cui che abbia più o meno gli stessi obiettivi la stessa disponibilità e quindi per questo dico una volta al mese cioè una volta per ogni ognuna delle due lingue e non più perché poi è difficile poi basta che non lo fate un giorno perché una delle due persone non poteva e poi questa non non prenderlo sul serio questo questo atteggiamento nei confronti del del come dire del mi manca la parola adesso del della cosa che avete deciso di fare cioè basta che una persona con cui stai facendo un tandem manchi una volta e può molto facilmente finire lì la cosa perché una manca poi l'altra pensa ok questo qua non mi sta prendendo sul serio non sta prendendo questo scambio sul serio capito settimana prossima ma io non posso facciamo settimana e poi finisce lì quindi se troviamo una persona veramente dedicata o tanto dedicata quanto noi ad imparare la lingua e che voglia farlo può essere molto utile se perdiamo un po' di tempo a cercare la persona certo certo non è facile non è facile come dice anche qualcun altro dice come che diceva incredibile incredibile la difficoltà a trovare persone con cui parlare o fare uno scambio sì però volevo tornare alla domanda di Evgeni che dice e come scegliete di cosa parlare in ogni sessione vi mettete d'accordo in anticipo guarda io adesso sto facendo solo con il francese con questa questa persona con cui faccio lo scambio di francese ogni volta che che mi viene un dubbio in testa lo lo scrivo gli scrivo su whatsapp per la prossima sessione questo poi tipo due giorni dopo un'altra cosa non dubbi tipo come si dice x questo lo cerco su youtube ma su su internet ma magari l'utilizzo per esempio facendo un esempio in italiano l'utilizzo della parola ormai l'utilizzo della questi concetti queste parole che magari hanno più usi e sono un po' più difficili da capire sì non è facile magari trovare una spiegazione rapida che ti risolve ti toglie tutti i dubbi esatto quindi se ho se ho questi se ho qualcosa in testa che non so e vorrei sapere voglio imparare scrivo su whatsapp o di solito faccio così ma possiamo anche avere un cioè fare un appunto per noi e poi durante la sessione di scambio linguistico abbiamo già tutti questi dubbi che abbiamo avuto durante l'ultima le ultime settimane e parliamo di quello sì così è un altro consiglio che posso dare magari di scrivervi in anticipo alcune cose che volete raccontare di cui volete parlare perché magari al momento della conversazione non non vi viene in mente niente esatto ma se voi avete una lista preparata in anticipo avrete un sacco di argomenti interessanti di cui parlare e sai che cosa io penso che questa cosa andrebbe fatta anche con gli amici in generale con le persone no non solo negli scambi di lingua perché a volte ti trovi nella stanza con una persona e non sai di cosa parlare se tu avessi una lista ah sì volevo parlare con te di questa cosa aspetta che prendo un attimo la lista magari non dire proprio così però fallo in maniera di nascosto no magari è una cosa stupida ma secondo me potrebbe avere non è stupido questo è questo qua questo si chiama social skills come come colmare qualche lacuna fare qualche lacuna nelle relazioni interpersonali sì esatto potrebbe tornarmi utile ah e volevo non so quanto tempo vogliamo parlare oggi io farei due orette lo standard ormai è diventato due ore quindi ok ok c'è un'altra cosa che faccio e questa è una cosa che ho cominciato a fare a Roma non per le lingue l'ho cominciato a fare in portoghese che è scrivere un diario e questo già come consiglio di vita non è che io sia tipo un saggio però è una delle cose più belle che ho una delle decisioni più importanti che ho preso nella mia vita perché ormai sono già sei anni dal più o meno oggi cioè dal il mio primo la prima la prima volta che ho scritto nel mio diario è stato 31 marzo 2015 quindi più o meno sei anni sei anni e qualche giorno ed è bellissimo leggere le cose che hai vissuto di c'è le avventure i viaggi come pensavi per esempio io che ho avuto qualche momento di decisioni di voglio fare il medico non voglio fare il medico cos'è che voglio fare com'è che c'è cos'è che voglio della vita è molto bello leggere come pensavi come ti sentivi quali erano i tuoi problemi o le cose belle della tua vita e ricordare e quindi l'ho cominciato a fare per questo e poi più tardi ho deciso di cominciare a scrivere anche in altre lingue per mantenerle non in francese per esempio non scrivo ancora è un consiglio che do scrivere nella lingua che stiamo imparando secondo me dobbiamo farlo però per questa situazione del diario lo tengo per lingue che parlo veramente bene perché non voglio tipo danneggiarlo capisci ok ma poi ma poi però fai correggere quelle cose ad altre persone o no allora è un po' personale magari si racconta proprio i tuoi affari privati esatto quindi c'è una mischia tra essere disposto a fare qualche errore che poi alla fine tu lo leggi il diario quindi è la tua scrittura cioè è come tu scrivi quindi anche se fai qualche errore non è tanto un problema però per esempio per quasi un anno ho scritto in italiano e uno dei miei amici più vicini è un ragazzo italiano di Roma Matteo che non ci starà vedendo perché ha molto da fare beh lo studiamo per quando guarderà la registrazione Matteo Matteo Libertini ciao Matteo è lui ciao Matteo l'ho conosciuto qui a Lisbona e ne siamo diventati amici lui canta io suono la chitarra abbiamo anche suonato nei bar qui a Lisbona abbiamo fatto un sacco di cose e quindi volevo solo ti faccio scusa se ti interrompo Marco credo sia italiano chiede c'è una mischia sì non ti ho corretto effettivamente in italiano se c'è una parola che è difficile da tradurre è la parola mix oppure mezcla credo mistura in portoghese no? ne mistura sì perché ci sono tante parole ma è difficile trovare la parola giusto nel contesto giusto perché abbiamo abbiamo miscela abbiamo mistura però si usano in contesti specifici abbiamo addirittura mescola che però si usa in contesti più industriali abbiamo la parola mix che chiaramente è inglese ma si usa abbiamo la parola misto quindi non so prendirti nel tuo caso io cambierei la frase perché non direi né che fai un mix tra le lingue forse si potrebbe dire però sono sicuro che ci sarà chi si arrabbia perché usa una parola inglese quindi non posso fare un mix tra le lingue direi che confondo le lingue ecco confondo le due lingue mischio le lingue puoi usare il verbo mischio le lingue però il sostantivo mix è difficile da tradurre in italiano ogni volta lo trovo difficile quindi chiudo la mia parentesi e ah non ho detto scusa una mischia una mischia invece è una sorta di una mischia di persone per esempio si usa negli sport no? è presente nel calcio magari anche nel rugby quando ci sono tante tanti giocatori ammassati insieme in un gruppo quella è una mischia mi senti sempre? ok sì quella è una mischia ok una sorta di contro uno di scontro tra persone nel rugby ci sono le mischie comunque ok conoscevo solo come come un mix di tipo tipo acqua olio aceto olio d'oliva cioè olio mix mescolare mischiare non conoscevo come gruppo di quella sarebbe forse una però non si dice mischia in italiano in quel caso si direbbe forse miscela e c'è anche un'altra parola che miscuglio ci sono tantissime parole che c'entrano con l'idea di di mettere cose insieme e mischiarle mescolare anche i verbi mischiare mescolare quindi è un casino però magari ne parlerò in futuro in un video da qualche parte nel tuo caso io direi comunque confondere le lingue o fare un mix tra le due lingue anche se mix è inglese quindi ma io quando è che ho parlato quando è che ho parlato di fare un mix di confondere lo stavi dicendo quando stavi dicendo cosa stai dicendo del diario del non so qualcuno ci aiuti ok ma vabbè non importa comunque per il diario quindi questo mio amico Matteo è la persona Matteo sì Matteo stavi dicendo Matteo mi ha fatto l'ho fatto correggermi un po' il diario qualche parte perché almeno le parti che mi sentevo di condividere cioè non troppo personali o che con lui non per me non era un problema condividere però sì ovviamente se non vogliamo condividere allora dobbiamo accettare che ci saranno degli errori perché anche se anche se cerco molto su internet quando scrivo qualcosa cerco il modo migliore di farlo certe espressioni come alla fine fai sempre qualche errore perché non è la tua lingua sì certo però è un consiglio che do scrivere nella lingua e scrivere un diario è un consiglio per la vita sì quindi al di là delle lingue dell'apprendimento di lingue scrivere un diario è una buona cosa nella vita sì dovrei farlo non l'ho mai fatto bene Emilio Garzia aveva chiesto ui ui dove era tipo quale lingua mi piaceva di più penso hai una lingua che preferisci questo secondo me è un argomento interessante perché ho rapporti diversi con con le lingue che parlo non so se anche tu senti un po' la stessa cosa tipo io le lingue per me le lingue più facili sono portoghese inglese spagnolo poi italiano e poi francese poi il tedesco non sento che lo parlo veramente bene e quindi l'inglese per fortuna l'ho imparato anche non non mi ricordo di non saperlo parlare l'ho imparato perché qui in Portogallo abbiamo la fortuna di non avere un un un'industria del doppiaggio molto molto sviluppata e quindi e tra l'altro volevo anche farti una domanda su questo perché io sapevo e sapevo questa cosa e ho anche avuto la dimostrazione come dire parlando con alcuni portoghesi che voi i portoghesi sapete molto molto bene l'inglese e e secondo me è proprio dovuto a quello che stai dicendo che 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 non avete il doppiaggio perché se no non si spiega come mai i vostri vicini spagnoli così come noi italiani e i francesi sia spagnoli che noi italiani che francesi insomma non ce la caviamo molto bene con l'inglese e voi sì voi siete l'unico popolo mediterraneo forse in generale mi sembra che siete bravi cioè ve la cavate sì 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 e questo secondo me soprattutto questo ci sarà anche forse un po' di motivazione cioè un po' di anche cultura perché essendo un paese piccolo in Europa siamo più disposti a parlare le lingue degli altri rispetto a magari uno spagnolo un francese un italiano che sono paesi con 40 60 milioni di persone che sono lingue che se uno va nel paese se uno va nel paese magari non lo so secondo me c'è un po' di predisposizione anche culturale tipo come gli olandesi per esempio che sono anche molto aperti a parlare altre lingue invece di parlare olandese sono anche un paese piccolo però anche l'avere il fatto che abbiamo siamo esposti all'inglese da piccoli perché quasi tutto è in inglese sulla tv cioè le serie i film è quasi tutto hollywood questo ovviamente ci aiuta molto perché io non mi ricordo mai aver studiato l'inglese e prendevo sempre il voto più alto perché perché ho sempre avuto questa curiosità quindi di lingue quindi guardavo serie e serie sitcoms e sitcom di su penso sia importante questa cosa poi ci sono anche quelli che difendono i doppiatori e spesso questa cosa l'ho sentita anche da doppiatori che dicono eh ma no è una scusa che comunque se volete imparare l'inglese lo imparate lo stesso non dovete dare la colpa al doppiaggio e a me non convince questa spiegazione perché io dico sempre ma se tu fin da piccolo sei esposto all'inglese volente o nolente comunque anche senza volerlo impari impari qualcosa lo impari come hai imparato la tua lingua e magari ti viene ti viene voglia di non so di impararlo più come dire autonomamente come dire se già se ti basta fare così poco se ti basta accendere la tv per sentire l'inglese diventa tutto molto più facile sì e in Italia invece non c'è questa cosa quindi secondo me secondo me è importante e anche se anche se non lo impari allo stesso livello che hai imparato la tua lingua già c'è un certo vantaggio che poi quando lo vuoi veramente tipo imparare come ti dicevo che ormai con l'italiano ho sempre questa voglia di migliorare e migliorare già già hai cioè hai avuto da piccolo già certi vantaggi e quindi hai una certa facilità perché sei stato esposto mentre che non l'hai mai sentito prima dei 20 anni allora poi diventa difficile e quindi noi abbiamo questa fortuna di avere soprattutto l'inglese e quindi per questo e perché ho sempre parlato inglese l'inglese è quasi come il portoghese nel senso che è una lingua che per me non è tipo parlare una lingua straniera o non c'è uno sforzo da parte mia magari c'è un po' uno sforzo di mantenere l'accento ma anche quello o un accento americano anche grazie a questo che abbiamo detto dell'essere esposto ai sitcom e ai film americani però l'ho sempre parlato quindi portoghese e inglese sono lingue sono tipo lingue di operazionali tipo sono le lingue sì lingue di lavoro in cui faccio tutto tranquillamente senza problemi mentre lo spagnolo è tipo un po' tra i due e poi l'italiano sono più lingue di interesse lingue di poi sono anche le lingue che mi piacciono di più l'italiano lo spagnolo poi anche il francese quindi sono lingue che mi cioè quando le sto parlando non è tipo automatico non è tipo non è tipo lingua di lavoro è tipo mi sta piacendo sto sto come si dice sì ti diverti gustando diciamo le parole sto ti gusti ogni parola esatto assapori ogni singola parola che pronunci che poi sono sicuro che è una cosa che piacerà molto anche a te dato che vedo che insomma anche a te piace molto avere una buona pronuncia nelle lingue che parli anche una certa facilità come direi anche per me così ed è proprio divertente quando produci suoni in una lingua straniera e senti che sono simili abbastanza simili a quelli che senti dai madrelingua proprio una cosa che non lo so è bello è una strana sensazione però sì 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 è quello come se fosse una sorta di esperienza extracorporea dici ah cavolo ma sono io che produco questi suoni che che sento da altre persone sono sono diventato capace di produrre anch'io questi suoni non so come no no io ti capisco perfettamente e sento la stessa cosa e per arrivarci per arrivarci ci vuole un po' di c'è un po' di sforzo e un po' di tipo per arrivare a quel livello ci vuole un po' di di abbracciare di cioè di non aver paura dell'imposter syndrome perché all'inizio devi un po' fingere devi un po' uscire dal tuo suono naturale per imparare quei suoni devi anche devi metterti ridicolo un po' esatto esatto magari anche esagerando esagerando i suoni esagerando le intonazioni però all'inizio è buono è una buona cosa da fare per esempio con l'italiano noi portoghesi del portogallo chiudiamo molto la bocca quando parliamo ho notato ho notato le vocali non esistono in portoghesi portughesi portughesi esatto portugale bravo e quindi l'italiano è tutto il contrario è una lingua in cui si apre molto la bocca si dicono si pronunciano molto le vocali e anche le doppie che da noi non esiste questo concetto che tu de che uno deve rallentare prolungare una consonante questo non esiste quindi questo all'inizio ormai lo faccio forse magari qualche parola non pronuncio bene le doppie però penso di farlo più o meno bene e tra l'altro una cosa un commento che ho visto prima passare non so se lo ritrovo comunque un italiano che ci segue forse un'italiana che diceva sai fare pure il raddoppiamento fonosintattico che dici a Roma questo penso sì e l'ho notato anch'io ma penso che sia perché tu effettivamente hai tanti tanti amici romani non so se non so se conosci questa regola a cui ho dedicato un video comunque sì l'ho anche visto l'ho anche visto effettivamente dici a Roma con la R che è corretta ma non è scritta quindi fai le doppie anche quando non sono scritte ma vanno fatte non ritrovo il commento comunque no no questo cioè sono concio diciamo che ho questa ho in qualche in alcune parole in alcune a volte mi esce un po' questa cadenza un po' più romana questo sì un pochino un pochino perché alla fine non è un problema sì sì no a me piace è una cosa bella perché poi come dire perché poi ho fissuto lì esatto è comunque una parte del una parte di te legata a Roma quindi esatto è una bella cosa che ciò si rifletta sul tuo accento esatto e io per esempio perché non parlo italiano da così tanto tempo cioè sono sei anni però se gli tipo come si dice cioè se mettiamo tutto insieme la mia esposizione all'italiano è stata l'equivalente a un anno e mezzo di madrelingua che abita in Italia con solo degli italiani capisci perché è stata comunque non è che vivo sempre con italiani parlando italiano quindi è come se io parlassi da un anno e mezzo tipo solo italiano concentrato così e quindi il mio accento cambia ancora molto a seconda di la persona con cui sto parlando o dell'esposizione più recente che ho avuto all'italiano non so se mi segui non so se non ho un accento fisso cioè se se le ultime due settimane le ho passate con siciliani magari il mio accento avrà un po' un po' questa inizia ad aprire tutte le e e tutte le o esatto se e quindi per questo ho ancora un po' l'accento romano perché uno sto guardando la serie su burra due la più grande esposizione dell'italiano che ho avuto è stata l'italiano di Roma però quando Matteo questo mio amico abitava qui a Lisbona e uscivamo insieme avevo molto più una pronuncia romana perché parlavo quasi esclusivamente con lui e avevo questa cioè alla fine parli con un romano lui ti parla quasi in romano e quindi alla fine un po' quest'accento lo pigli adesso ormai è un po' cambiato un po' dipende un po' da quello che sento sto anche guardando molti video di Nova Lectio che ti avevo detto quindi adesso l'accento toscano un po' magari non so se lo sto prendendo va inizia a parlare toscano a parlare toscano toscano colattini in toscano no non è toscano toscano è solo tra le vocali quelle fiorentine ok quelle fiorentine no no solo in varie città ma è solo tra le vocali ho capito ok perché c'è una S non diventa toscano ma toscano però dici non lo so mi fa cacare questa cosa questa cosa mi fa cacare questa ho anche notato quella particolarità dell'accento toscano che è la T tipo questa 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 io non la so fare però quella T che è tipo una F sì sempre tra le vocali tra le vocali quindi non lo so sono andato ho fatto un video sull'accento fiorentino toscano ma caratteristiche che poi sono comuni in varie varie città l'ho già visto l'ho già visto l'ho già visto ma era per farmi pubblicità da solo ah ok ma senti volevo chiederti magari concludere con quest'ultima sezione della diretta parlando un po' di portoghese e italiano mettere a confronto le due lingue vedere un po' quali sono le difficoltà secondo te specifiche per non per un portoghese per chi parla portoghese perché poi tanti ci seguono dal Brasile magari se ci sono anche cose caratteristiche diverse all'interno del portoghese cioè tra le due varietà principali di portoghese che possono semplificare o complicare l'apprendimento dell'italiano non so se è chiara la mia domanda ho capito ho capito immagino che ci siano alcune differenze grammatiche per esempio so che vabbè non importa me lo dirai tu le differenze grammaticali non penso ci siano così tante c'è il fosse nel Brasile che noi usiamo il tu però non è che i brasiliani non sanno coniugare il tu semplicemente non lo fanno per esempio anche in portoghese c'è il vos che sarebbe il voi che anche noi almeno qui a Lisbona e anche in quasi tutto il portogallo in certe parti si usa ancora ma in quasi tutto il portogallo non si usa e quindi però non vuol dire che noi non sappiamo usare il voi cioè poi nell'italiano saperlo usare quindi grammaticalmente cosa dite al posto di vos diciamo vos e la coniughiamo con la terza coniugazione del plurale un po' come in spagnolo come ustedes ok capito capito quindi usate la forma di rispetto plurale al posto della forma informale voi esatto che per noi è tutto cioè che da noi è tutto il contrario perché il vos essendo stato usato nel passato ha una certa cioè per noi è tipo sembra che stiamo parlando con tipo aristocrati se qualcuno usa il vos sembra che tipo un aristocrata del del secolo un aristocratico un nobil esatto diciamo esponente della nobiltà esatto i signori gradiscono un tè trovano messere il messere nella sala da tè che li aspetta esatto tipo un maggiordomo di una casa reale così che ci parla e quindi per noi il vos è anche più vicino però per noi portoghesi il você è formale mentre il tu è informale ok quindi il você è la forma di rispetto esatto italiano il corrispettivo del lei esatto esatto di rispetto italiano ok che poi alla fine come in italiano quello forse è più facile è più facile per te che sei portoghese perché sai cioè perché usi il tu normalmente sei abituato e quindi non è un problema per te dirlo anche in italiano forse no esatto e poi fare anche la distinzione tra informale seconda persona del singolare formale terza persona magari è più facile per noi perché è così che coniughiamo anche in portoghese tipo in italiano lei è terza persona portogallo voce o un signor tipo il signore è invece di tu sei tu es quindi credo che questo sia più facile per te perché effettivamente una difficoltà che hanno molti brasiliani sono sono appunto le coniugazioni perché molto spesso alcune persone dicono tu tu è esatto al posto di tu sei cioè coniugando alla terza persona il tu o a volte noto molto spesso credo sia sempre da parte di brasiliani l'uso di loro sono che credo sia appunto come voces 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 son ah tipo invece di voi di voi usare loro perché in portoghese brasilia brasilia hai detto che anche in portoghese europeo si usa poco voce quindi questo anche tu forse questo anche anche ho già sentito questo errore da tipo qualche portoghese tipo voi tipo voi sono tipo usare il voi perché stiamo parlando con due con voi però coniugare con la terza persona perché da noi si coniuga con la terza persona tipo voi sono sì voi sono oppure che fanno che fanno ecco esatto no io spesso sento tipo loro sono molto bravi no al posto di dire al posto di siete molto bravi sì sì quindi questa è una cosa a cui bisogna fare un po' attenzione esatto però nella testa di una persona che parla portoghese la persona sta dicendo voi sono molto bravi perché noi la 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 diciamo è presente però per noi la coniugazione è la terza capito perché voi perché tu dici vos es viene tradotto con voi esatto e poi prendi la terza persona plurale ok esattamente quindi nella testa di un madrelingua portoghese quando uno dice ah ma ragazzi vengono tipo la persona sta pensando voi vengono capisci sì 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 certo certo quindi questa è una cosa a cui bisogna fare un po' attenzione esatto e fare voi venite ho capito poi una cosa che io sapevo che in portoghese europeo si dice estara fazer forse esatto e in port forse l'ho visto nel tuo video il tuo video virale sì 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 mentre in brasile si dice star fazendo si usa il terreno esatto in questo caso il brasiliano è più simile all'italiano perché diciamo sto facendo ma il portoghese europeo è più simile al romano perché a Roma dicono sto a fa sto a di sto a pensare che no sto a pensare è un po' strano sto a sto a fa qualcosa sto a fa qualcosa ecco perché mi sono trovato così bene a Roma per la forma continuata la forma progressiva esatto ma che sta a fa e quindi per te è assolutamente naturale sì 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 però ci sono parti del portogallo dove si usa il gerundio cioè e noi ovviamente lo sappiamo usare sappiamo che esiste semplicemente non naturalmente non ci è almeno qui a Lisbona e in altre parti del portogallo non ci viene di dire sto facendo sto facendo stiamo a parlare praticamente non si dice neanche la e iniziale stiamo sto facendo parole con è tipo sì parole con e e poi s e poi un'altra consonante tipo stare sperare sperare star e st st ok non sapevo sto facendo questo nel portogallo in portogallo no perché in Brasile si dice molto chiaramente esatto esatto io direi l'accento brasiliano gli accenti del nord se non sbaglio sono più simili a quello portoghese per esempio del nord e anche il rio perché al rio hanno la s così come noi tipo portugues portugues invece di portugues quindi sono accenti un po' più simili a quello del portogallo però le vocali sono sempre un problema noi non le pronunciamo quindi questo forse sarà volevo salutare il mio amico Stefano non so se lo conosci anche lui è poliglotta l'ho visto su qualche video anche anche lui ha fatto una diretta così sì abbiamo fatto una diretta un'intervista insomma quindi ciao Stefano un saluto ciao Stefano e quindi forse per un brasiliano sarà più facile la apertura di vocali dell'italiano rispetto a un portoghese poi una cosa che è difficile come ti dicevo prima per madrelingua portoghese sono le doppie chiaro quindi questo è un po' il consiglio che ho è di esagerare proprio all'inizio finché la questa finché la la questa cosa non ci entra in testa cioè finché questo concetto non ci entra in testa dobbiamo esagerare e quindi pronunciare le doppie così tipo nel sud così molto pronunciate sì una cosa una cosa che però poi può succedere è di fare le doppie quando non servono però insomma lì bisogna avere un insegnante che che ti sa aiutare con la pronuncia ed è competente tra l'altro ho fatto anche una diretta se se mi interessa sull'argomento della pronuncia con il mio amico rafael che è un esperto che sa cose che gli umani non sanno sulla fotografia quindi non so forse non l'hai vista però no 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 però abbiamo parlato poi andrò a vederla sì 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 e quindi voglio voglio solo rispondere sì uno ciao Stefano magari parliamo un giorno spero anche io facciamo facciamo qualcosa sul mio canale in portoghese e qui Kinji Sakuranda Leo sai qualcosa sul portoghese d'Angola e fra qualche settimana uscirà un video sul portoghese d'Angola vi lascio qui l'avviso nessuno lo sa un po' di suspense esatto esatto lo sapete solo voi che ci state seguendo è la prima volta che ne parlo sarà interessante perché io non so nulla del portoghese anche io so molto poco sono le lingue il portoghese africano dei paesi africani sono portoghesi che sono stati molto influenzati dai criolli non so se si dice criollo con due L probabilmente con una sola criolli ok e quindi non so quando finisce il portoghese angolano tipo pronuncia e parole portoghesi e quando comincia il criollo angolano non so c'è c'è ci sarà un confine che io non conosco bene quindi sarà interessante non l'ho ancora registrato il video quindi non vi so dire nulla ma sarà interessante credo sia creolo giusto per per essere creolo ho cercato per conferma perché anche io non so mai se è creolo o creolo creolo in italiano e da noi è criolo c-r-i-o-l-o in inglese creole esatto esatto ok cos'altro dicevamo altre differenze somiglianze difficoltà guarda io le somiglianze sono molte e questo è la strategia per per cominciare a parlare l'italiano se sei madrelingua portoghese da da dal primo giorno è parole che finiscono in sound sound l'italiano è zione gione sione sono le stesse parole paixão passione informação informazione quindi se impariamo le terminazioni eh terminação terminazione se impariamo le terminazioni italiane già sappiamo dire qualcosa già ce la capiamo all'inizio e poi poi questo le lingue simili possono anche avere certe trappole tipo perché ti capiscono la gente non ti corregge e allora tu nella tua testa senti che hai parlato hai detto la parola giusta anche se hai detto qualcosa che non è bene la parola giusta ma è abbastanza simile simile che ti capiscano quindi allora devi usare questa strategia di se la parola portoghese finisce in sound allora la parola italiana sarà la stessa fine l'inizione ma devi sempre studiare per certificarti che stai parlando giusto e non stai parlando un portuliano molto molto simile all'italiano che però non è giusto bisogna verificare bisogna verificare è una cosa che forse secondo me è sottovalutata e che tanti non fanno cioè quella di andare a controllare quando uno cioè uno pensa magari di sapere una parola è sempre una buona pratica andare a controllare su un dizionario io consiglio sempre il sito reverso reverso context perché ti permette di vedere frasi frasi in contesto quindi sì lo consiglio ma lo consiglio anche nella propria lingua perché da quando ho questo progetto e forse magari è lo stesso anche per te cioè tu hai convinzioni su come si usano parole nella tua lingua sul significato di alcune parole che poi sono errate esatto sono errate quindi tu vai a cercare sul dizionario e dici ah cazzo ma io ho usato male questa parola non ha questo significato e quindi scopri cose sulla tua lingua quindi usate i dizionari ma anche nella vostra lingua questo è il mio consiglio che poi non è un problema nella tua vita normale con le persone che ti conoscono ma se vai a fare un video partendo da io sto qui per insegnarvi la mia lingua e fai degli errori mi metto in questa posizione di di insegnante esatto poi magari nessuno se ne accorge però è un davvero è una pugnalata nel petto quando quando poi vedo nel montaggio che ho usato una parola male e non posso più tornare indietro non c'è modo di risolvere l'errore quindi magari devo scrivere nel video non si usa così a volte mi capitava soprattutto in passato ora un po' meno perché cerco di lavorarci un po' in passato io avevo questo problema con le preposizioni in italiano perché studiando molto e ascoltando costantemente lingue straniere avrai notato anche tu che c'è costantemente un'interferenza proveniente dalle altre lingue e quindi ti capita anche nella tua lingua di fare errori banali come sbagliare le preposizioni sì 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 ed è frustrante soprattutto se poi non so ti autodefinisci insegnante esatto non è professionale soprattutto se e questo mi è già capitato in qualche video perché poi sui commenti c'è sempre qualcuno che che te lo dice tipo questo è un in portoghese chiamiamo anglicismo anglicismo sarà questo che hai usato anglismo anglismo o anglicismo diciamo che anglicismo è un anglicismo perché in italiano sarebbe anglismo ok perché alla fine l'inglese è la lingua che io uso di più nella mia vita perché se devo cercare qualcosa su internet ci sono più contenuti in inglese ovviamente cerco di di fare altre cose in altre lingue ma e quindi sì non mi ricordo più il video o se ce ne sono se ce ne sono più di uno ma tipo qualcuno ha scritto ah questo questa parola che hai usato è un anglismo questo non è il vero portoghese ah quando dico halloween per esempio in un video non è il halloween è il giorno delle streghe portoghese ok è tipo vabbè però le preposizioni che sono errori più importanti sono d'accordo e le preposizioni sono le cose più difficili perché sono completamente a caso cioè non ha non esiste senso non esiste senso nell'utilizzo di preposizioni di una lingua all'altra per esempio è questo per la gente che sta imparando l'italiano portoghese qualunque lingua le preposizioni secondo me sono cose che dobbiamo andare sempre a controllare fin dall'inizio da quando cominciamo ad imparare la lingua e anche quando siamo già ad un certo livello perché comunque sbagliamo sempre immagini tipo pensare a innamorarsi di cioè in portoghese noi diciamo pensare in pensare in innamorarsi per appassionarsi pu cioè non c'è proprio senso poi la cosa che complica è che che in alcune frasi puoi anche dire penso di ma quando hai l'infinito penso di fare qualcosa ma altrimenti penso a una persona penso a un momento della mia vita quindi bisogna imparare la memoria e imparare delle frasi io consiglio imparate delle frasi che hanno un'importanza magari per voi frasi che riguardano voi cose che dite spesso nelle vostre conversazioni imparate frasi che contengono le preposizioni e i verbi che con le preposizioni qualcuno qualcuno Emilio Garzia ha scritto non esiste senso nell'utilizzo dei delle preposizioni delle preposizioni di una lingua all'altra non so se ho detto questo io penso di aver detto non c'è senso nel modo come si traducono cioè non c'è proprio nella traduzione esatto non c'è io direi non c'è un senso esatto nella traduzione sì bisogna impararla e basta purtroppo esatto per esempio essere io sono a casa ma se voglio andare in bagno vado in bagno se voglio spostarmi vado sul pullman però vuol dire che sto dentro l'autobus non sto sopra sì chiaro cioè a volte non ha senso anche in portoghese certe preposizioni sì anche in italiano sono sul treno ma sono in macchina esatto di solito non sulla macchina questo ed è come dici a volte anche parlando le nostre le nostre lingue spesso quando abbiamo appena parlato molto un'altra lingua o abbiamo visto contenuti video in un'altra lingua tipo per esempio io negli ultimi tempi sto molto con il francese con l'italiano anche per prepararmi per questa intervista negli ultimi giorni e anche perché ho scoperto molto professionale apprezzo molto la tua e anche l'aver scoperto quel canale che ti ho detto Nova Alexio che è molto interessante lo sto trovando molto interessante poi quando sto parlando portoghese se ho appena parlato molto un'altra lingua e sto un po' pensando in quella lingua certe parole come dici le preposizioni soprattutto vengono sbagliate capita non so di cosa stavamo parlando sempre di italiano portoghese differenze difficoltà esatto quindi nell'italiano un'altra difficoltà questo più grammaticale in portoghese non esiste il passato remoto esiste solo il preterito prefaito che è tipo il passato remoto nel senso che non c'è un verbo ausiliare ausiliario come si dice ausiliare ausiliare grazie e quindi c'è solo tipo tipo lui fu tipo fece cioè fece disse pensò esatto esatto quindi uno potrebbe pensare allora è più facile l'italiano perché è sempre lo stesso ausiliare e poi e poi il participio e questo è vero che è facile però poi nell'italiano a differenza per esempio dello spagnolo c'è certi verbi per certi verbi devi usare l'essere e per altri devi usare il avere e quindi questo in portoghese voi dite sono andato dite fui fui ok andare e ir usate preterito capito esatto sempre però per usare il passato prossimo in italiano di solito è facile però i verbi con essere soprattutto verbi tipo è piovuto oppure verbi riflessivi tipo mi sono accorto questo può essere difficile perché non ha tanto senso il portoghese come lo spagnolo in questo caso perché me no in realtà hai detto che si usa il preterito esatto non usiamo nemmeno il ma non si usa in nessun caso un tempo tipo il passato prossimo tipo present perfect in inglese come i have no e questo è un errore molto tipico in portoghese che tradurre perché noi abbiamo un verbo ausiliare che è ter ter sì infatti ho sentito tipo però non si usa in questa stessa situazione io sto sentendo un'ambulanza sì che ho un trauma con questo cioè è proprio il suono peggiore della vita perché voi le ambulanze in Italia non so perché urlano cioè sì hanno una certa da voi non fanno questo casino le ambulanze no io mi ricordo a Roma cioè non capivo il perché perché riconosco questo suono a distanza cioè è proprio impressa nella mia testa evoca traumi traumi passati esatto riemergono esatto però questo in portoghese abbiamo ter fai tu ter fai tu non è aver fatto è tipo tenu tipo tenu fai tu una cosa è ho fatto qualcosa la traduzione letterale però vuol dire negli ultimi giorni ho fatto questo nel senso si usa ma solo con espressione espressione come esatto esatto quindi non è la stessa cosa è tipo in inglese sarebbe I've been doing this non è l'ho fatto e finito scusa non è l'ho fatto e l'ho finito è è un'abitudine ok ma se tu vuoi dire per esempio ho imparato quattro lingue come lo diresti apprendi 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 quattro lingue ok ok però se ti voglio dire tenu studiato francese o italiano vuol dire mi so negli ultimi tempi ho studiato l'italiano mi sono dedicato all'italiano sempre negli ultimi tempi esatto è tipo in italiano penso non esista un modo di come in spagnolo quando si dice in spagnolo è stato apprendendo è stato eccolo sì 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 in italiano non c'è un modo di dirlo cioè in italiano semplicemente diciamo negli ultimi tempi ho imparato esatto ultimamente ho imparato però non c'è il tempo come in spagnolo esatto quindi da noi si usa solo così non si usa per il passato che già è che ormai che già è finito e poi un'altra cosa difficile è tipo il ci e il ne ok che all'inizio all'inizio è difficile però questo è un altro problema di parlare tante lingue e poi che si che si mescolano anche nella tua propria lingua che il ne e il ci sono così utili che a volte mi manca cioè mi manca cioè magari esistessero in portoghese sì sì perché poter dire ne ho già parlato ne abbiamo già parlato invece di dire abbiamo già parlato di questo è molto meglio cioè quindi una volta imparati questi due pronomi la loro logica diciamo sono molto utili e io li adoro perché veramente in portoghese diresti devi dire gisso di questo sì di su di su sì tipo sì e quindi e quindi anche il ci il ci tipo ci ho già parlato no tipo il ci ci sei già stato ci sei già stato devi dire al parco esatto sei già stato lì in portoghese oppure ci credo è credito nisso oppure solo è credito o è credito in ti tipo non credo in te tipo sei dio e credo che esisti ma credo in quello che dici sì 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 ok ti credo possiamo dire noi ti credo ti credo nel senso credo a ciò che mi stai raccontando oppure ci credo nel senso nella storia nella cosa che mi hai raccontato esatto ok quindi quindi ti mancano insomma vorresti molto utile il portoghese avesse i suoi portoghese l'inglese lo spagnolo tutte le altre lingue magari avessero anche questi pronomi ecco beh di tanti invece vorrebbero che non esistessero in italiano poi un'altra cosa per finire così che siamo quasi stiamo arrivando alle due ore di diretta imparare i congiuntivi e quella roba lì è difficile all'inizio l'abbiamo anche in portoghese però vale molto la pena perché serve per parlare cioè non puoi non puoi avere un certo livello di conversazione senza sapere il congiuntivo avete anche il congiuntivo futuro esatto questo è la cosa più all'inizio mi ricordo la prima volta che ho dovuto dire qualcosa usando il congiuntivo futuro e ho pensato ma come dico come che dico questo in italiano perché voi non l'avete congiuntivo futuro è tipo spesso si usa con se o quando è tipo ed è una possibilità nel futuro tipo se 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 facciamo questa diretta mi prometti di correggermi se sbaglio in italiano per esempio se facciamo in portoghese se fizermos quindi congiuntivo futuro se nel futuro se nel futuro faremmo questo capisci? sì ed è così voi o presente o se facciamo o se faremo sì esattamente quindi questo per i i madrelingua portoghese portoghesi dovremmo dovremmo inventarci un un congiuntivo futuro io direi qualcosa tipo se faressi no adesso non lo dico sennò confondo le persone che imparano l'italiano ok dimenticatevi questa cosa quindi questo per i portoghesi o brasiliani portoghese non esiste un congiuntivo futuro non esiste quindi se volete dire quando fizermos tipo quando quando faremo o quando facciamo quindi o futuro o presente da noi esiste questo che per per chi impara il portoghese è molto difficile però è molto usato e non so se c'è ancora qualcosa da dire qualche altra cosa divertente che ti viene in mente magari qualche falso amico comunque dobbiamo fare quel video di cui ci siamo messi facciamo un video ci siamo messi d'accordo dobbiamo fare un video insieme scrivete nei commenti se volete un video una collaborazione tra tra me e Leo spero di sì consigliateci argomenti magari esatto vi prego perché l'idea per ora è mettere a confronto le due lingue e basta però se avete idea diteci qualche altra idea sì però falsi amici adesso non mi viene niente in mente non penso ci siano tipo parole che ci mettano in situazioni imbarazzanti almeno non 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 te ne vengono no non ho avuto l'unica esperienza che ho avuto è stato grazie allo spagnolo che però quella che ci hai raccontato esatto esatto quindi no bene mi dispiace ragazzi non è più niente divertente da raccontarvi magari se ti viene in mente qualcos'altro ce la dirai poi nel video esatto esatto faremo insieme bene cos'altro posso chiederti insomma quali sono i tuoi piani con l'italiano e con il tuo progetto diciamo così allora con Portuguese with Leo con il mio progetto è continuare a fare per ora cioè per questo per quest'anno diciamo fino alla fine del 2021 ho già quasi ho tante idee in mente che so quali argomenti so quali video di quali argomenti voglio parlare quindi almeno fino a fino alla fine di quest'anno è solo una questione di mettermi a lavorarci e fare video dopo dopo cioè dopo dopo l'anno prossimo voglio continuare a fare un video alla settimana forse forse ogni due settimane idealmente un video alla settimana sempre video e podcast magari nel futuro dovrò separarli perché ci sono argomenti che non 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 si come si dice non si passano non sono adatti esatto non sono adatti al formato podcast non sono trasportabili dal video al podcast grazie sì anche io ho avuto questo problema in passato tipo tipo il video che ho fatto che è stata un'esperienza è il mio video forse meno visto perché non è di lingue che è un video con esercizi con un workout con un allenamento in portoghese quello l'ho messo anche nel podcast però non è la cosa più cioè non ha molto senso essere sì un workout solo audio effettivamente è quando quando già lo conoscono il workout e lo vogliono solo sentire però continuare con il canale con i video con i podcast insieme anche separati e fare magari nel futuro un corso di portoghese grande tipo dai cioè dall'inizio proprio e questa è una cosa che ho pensato anche fare per esempio per un per un corso di portoghese lo cioè se lo faccio e voglio farlo lo dividirò tra principianti intermedi intermediari e avanzati diciamo e per i i principianti ci vuole dobbiamo usare un'altra lingua per trasmettere le informazioni cioè non può essere esclusivamente in portoghese quindi magari faccio uno per italiani uno per ispanoparlanti per tutte le lingue che sai per quelle che che mi sento cioè che so parlare e che mi sento ad agio diciamo per fare un corso e spiegare delle cose anche un po' complicate di grammatica quindi magari faccio questo quindi per la gente che ci sta vedendo se parlate francese italiano spagnolo o inglese e volete imparare il portoghese magari ho un corso per voi fra mezzo anno spero e questo questo è il piano per il futuro però continuare con il canale per anni spero così come fai te quindi andate a seguire Leo anche se parlate portoghese andate a seguire Leo perché comunque ha video interessanti su argomenti culturali legati al portogallo quindi esatto e anche esplorare un po' le differenze tra le diverse tra il portoghese parlato in tutto il mondo voglio continuare a fare questo le differenze con il brasiliano l'angolano il mozambicano cioè tutti questi paesi molto interessanti sono molto molto curioso come fai te qui qui sul tuo canale parlare di cose che siano interessanti anche se anche per gente che non stia imparando il portoghese sempre in un portoghese un po' più lento per quelli che stanno imparando quindi parlare di storia di magari di politica un po' non troppo perché è sempre un argomento un po' complicato parlare di lingue che questo è già per gente come noi per i nerd di lingue ne voglio parlare un po' di più sul mio canale esplorare altre lingue come ho fatto con il russo penso hai visto quel video in cui parato fantastico quel video a me è piaciuto molto perché perché poi io sul russo quindi ho potuto apprezzare insomma quindi voglio fare anche anche esplorare lingue nel mio canale non solo esplorare cioè insegnare il portoghese ma anche gli argomenti di cui voglio parlare anche esplorare lingue è anche un'idea che ho per il futuro questo sto dicendo cose che non le ho mai dite a nessuno quindi stai divulgando proprio ti stai aprendo a noi in esclusivo dopo quel video con Pavel del russo ho pensato che dopo migliorare il mio tedesco quest'anno voglio forse fra un anno qualcosa del genere cominciare ad imparare russo grande e se lo fa scrivimi scrivimi un messaggio se non è russo sarà un'altra lingua però adesso ho in testa il russo e quindi fare anche un video in cui in cui cioè condivido fai vedere come fai imparare una nuova lingua dallo zero fino a spero un livello più o meno alto spero arrivare ad un livello più o meno alto questo può anche essere interessante cioè il fatto di insegnare una lingua di creare contenuti in una lingua come faccio io e come fai tu ma sapendo altre lingue e imparando lingue ti dà un vantaggio perché ti fa capire quali sono le difficoltà delle persone esatto esatto il semplice fatto di sapere altre lingue ti fa capire da dove vengono i problemi delle persone tipo il mio ultimo video di fatto viene da lì dal fatto di sapere come funzionano alcuni verbi nello specifico il verbo fare in altre lingue quindi capisco da dove vengono gli errori quindi è una cosa che ti aiuta esatto quindi bene sono contento di vedere i contenuti che proporrai esatto allora per chi se lo fosse perso questo è il nome del canale eccolo andatelo a vedere dai ti ringrazio per queste due orette grazie a te trascorse molto piacevolmente speriamo che speriamo che che vi sia piaciuta la nostra chiacchierata che abbiate imparato qualcosa o che abbiate non lo so che abbiamo tenuto compagnia e non so vuoi dire qualcos'altro? ti lascio l'ultima parola grazie allora voglio ringraziarti perché per me come ti ho detto nella mail che ti ho scritto è un onore poter fare questa diretta con te che sei una persona che seguo su youtube già da qualche mese se non hanno mi piace molto parlare con persone in diretta quindi è ti dico probabilmente lo farò anche in futuro sul mio canale perché mi stia piacendo questo e magari faccio anche qualche diretta e non con me perché non so parlare in portoghese però con stefano con te nel futuro quando lo imparerai bene quando lo imparerai spero di non rovinarti il livello di contenuti però no no per niente stefano ha detto a te brev spero ci stia ancora vedendo perché stefano un saluto salutiamo stefano salutiamo e sei invitato al mio canale a fare una diretta se vuoi in portoghese e niente grazie davide allora allora un saluto volevo solo concludere con un momento spam per me stessa volevo solamente dire che ho appena pubblicato un nuovo episodio del mio podcast quindi dato che non l'ho pubblicizzato qui su youtube perché c'era già questa diretta non volevo creare non volevo fare troppi annunci ve lo dico adesso vi metto anche il link quindi andate a sentire l'ultimo episodio del podcast vi piacerà e dai ti saluto ancora ti ringrazio una una buona serata e a presto anche a te a presto ciao 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 Grazie a tutti.